Un'operazione complessa che ha portato alla scoperta di un'azione di usura di bancarotta di proporzioni rilevanti. Partendo dal fallimento di due società di Città Sant'Angelo siamo riusciti ad appurare diverse condotte, ovviamente di distrazione di beni notevoli per 7 milioni di euro circa e poi di reimpiego di investimento di questi patrimoni illeciti in altre attività commerciali da cui poi è scaduto il sequestro di una delle tre società interessate per circa 7 milioni di euro di valore del sequestro. Come ha detto lei giustamente abbiamo anche scoperto un grave e importante fatto d'usura che noi abbiamo definito usura d'impresa in quanto sostanzialmente un soggetto titolare di un supermercato è stato di fatto espropriato della sua attività in quanto a seguito di un prestito, anche di importo non elevatissimo, si è trovato a restituire al 120% del prestito che aveva ricevuto. Peraltro, come dicevo prima, le modalità sono particolarmente inigue perché il rientro al prestito è stato chiesto in termini molto stretti, quindi sostanzialmente ha un iniziale prestito bonario, poi si è sostituito dopo qualche tempo questa richiesta pressante di rientro quindi ovviamente non ha potuto far fronte e di fatto ha dovuto cedere la gestione del suo supermercato diventando da titolare dipendente dello stesso quindi sostanzialmente importante da questo punto di vista. Poi ovviamente abbiamo trovato il riempiego di questo denaro nelle tre società sequestrate per circa 7 milioni di euro, quindi insomma l'operazione è oggettivamente rilevante. Questa è l'ultima in ordine di tempo di diverse operazioni del genere che avete portato e concluso brillantemente negli ultimi mesi? Sì, come dicevo, come diceva prima pure il comandante, l'attenzione è massima da parte nostra ma anche dall'autorità giudiziaria locale sono contrariati economico-finanziari e nell'ultimo periodo dei fallimenti e di tutti quanti fenomeni di accumulazione di patrimoni illeciti quindi sì, già nell'ultimo periodo abbiamo sequestrato altre società, sempre per i fallimentari, anche seguito ordine di strade cautelare di carattere personale quindi insomma l'attenzione è massima, quest'anno questa è la terza attività che facciamo del genere.